San Tommaso d'Aquino dice chiunque comunica con un altro nel peccato ne viene a condividere la colpa. Non so, vi rendete conto di questo? Una cum, vi rendete conto di questo? Chiunque comunica con un altro nel peccato e voi fate la messa in unione con il nostro papa, apostata, plurieretico, bestemmiatore Bergoglio, ne viene a condividere la colpa. Quiunque comunica all'icui in peccato ipse particeps peccati efficitur. È credibile questo. E non lo dico io, lo dice San Tommaso d'Aquino. Quando voi comunicate, e addirittura questa comunicazione è in sacris, con Papa Francesco, pensando di farla franca, pensando di superare il travaglio di questa situazione difficile, in realtà voi state comunicando con lui nell'errore. Lo dice San Tommaso d'Aquino, nella colpa. Condividete la colpa. Tanto che l'Apostolo Giovanni, e qui è incredibile come San Tommaso d'Aquino lo cita nel suo testo, nelle sue lettere, che sono inserite nella Bibbia, del Nuovo Testamento, San Giovanni Apostolo dice chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Cioè San Giovanni diceva di anche salutarlo l'eretico, perché anche solo il saluto era un modus di partecipazione all'eresia. E invece qui addirittura ci celebrate la messa in unione con l'eretico. Qui addirittura ci celebrate l'eucaristia in unione con il nostro Papa Francesco, che Papa non è, e che se lo fosse smentirebbe le parole di Cristo nel Vangelo. Quindi chiunque comunica con un altro nel peccato ne viene a condividere la colpa. Quindi non è lecito ricevere la comunione dai suddetti sacerdoti né ascoltare la loro messa. Qui addirittura parliamo di quello che considerate Papa. Non lo so, dite che queste cose me le sono inventate io. Guardate che è scritto qui, ideo non licet a predictis comunione ma cipere auteorum issam audire. Lo dice Sant'Ommaso d'Aquino, benedetti miei cari figlioli. Lo rileggo in italiano. Quindi non è lecito, non è lecito ricevere la comunione dai suddetti sacerdoti. Qui addirittura è Bergoglio. Né ascoltare la loro messa. Non bisogna andare ad ascoltare la messa degli eretici bergoiani che stanno trasformando la chiesa in un circo. Non bisogna... Io vi dico, non ci andate, ribadisco.